Oggi 4 novembre, festa nazionale delle forze armate, alla cerimonia in prefettura presente anche la real maestranza. Con noi il capitano Francesco Riggio, capitano anno 2015. È importante la vostra presenza qui oggi? Per noi è fare un dovere giustamente all'avvenimento che c'è oggi, la festa giustamente è per tutti ed è giusto che avendo ricevuto un invito onoriamo coloro che organizzano questa manifestazione. Cosa è importante per le nuove generazioni oggi presenti qui sapere? Certamente è la storia d'Italia questa, pertanto le nuove generazioni hanno maggiore interesse a capire cosa è avvenuto in passato, cosa avviene oggi e le forze armate come si sono formate a difesa del proprio paese e della propria patria. Lei è il capitano uscente, un anno ricco di soddisfazioni? Senz'altro, anche perché per me è una doppia carica in quanto già avevo svolto la carica di capitano nel 79, pertanto oggi senza dubbio non ho l'età di allora ma la soddisfazione è sempre la stessa.